Unione Popolare è un percorso unitario della sinistra di alternativa che in questi anni ha espresso posizioni diametralmente opposte a quelle che sia il centro che il centrodestra propongono in maniera unitaria e avendo governato unitariamente in Parlamento. Si presenta così Daniela Ruffini, capolista alla Camera di Unione Popolare nel listino proporzionale per il Collegio Plurinominale Veneto II, ricerca della pace, lavoro, i cardini del programma. Intanto tentare con convinzione e con coraggio la strada del negoziato per fermare questa guerra, quindi l'applicazione dell'articolo 11 della Costituzione e fermare la guerra. Un secondo punto importante è quello del reddito e del lavoro, quindi noi proponiamo il superamento di tutti quei contratti precari che negli ultimi dieci anni hanno sconvolto e precarizzato la vita delle persone e proponiamo un salario minimo che sia di 10 euro all'ora e che permetta alle persone di vivere dignitosamente. Queste cose si possono fare. Dirottare i fondi che il Parlamento ha destinato alle spese militari propone Unione Popolare che si pone agli elettori come forza alternativa di sinistra. Questo Parlamento ha votato tutto, dalla legge Fornero al Job Act, alle riforme economiche, alla guerra, all'invio di armi in Ucraina. Noi siamo un'alternativa, quindi una possibilità c'è e questo è importante e quindi diciamo ai cittadini che bisogna andare a votare.